Cosa suoneremo oggi Giulia? The Banks of the Royal Brava, molto bene. Torniamo a un brano in quattro tempi. Proviamo a leggerlo prima di tutti. Questo brano, in quattro tempi, devi stare attenta perché gli manca il primo tempo. Vedi che nella prima battuta ci sono tre note da un tempo solo? Di conseguenza, mancando il primo tempo, sentirai poi nell'accompagnamento, nella base, prima a quattro clic, poi uno schiocco di dita che sta a significare la mancanza del primo tempo e poi si inizia sul secondo. Capito? Questo perché? Perché la mancanza del primo tempo fa sì che poi tu suonerai più forte il sì della battuta successiva, dandogli un accento. Perché questo brano inizia. Sol, sol, sì, sì. Un, sol, sol, la, la. Perciò questa mancanza del primo tempo fa sì che l'accento forte cada poi sulla nota sì della battuta successiva. Esatto. Bene. La proviamo a leggere prima? Con la voce? O la vuoi suonare direttamente? Suoniamo direttamente. Suoniamola direttamente. Allora, ti do il tempo, eh? Un, due, tre, quattro, pausa. 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 1, 2, 3, 4, pausa molto bene se è scesa un po' troppo con la mano devi stare sempre alla fine della buca esatto, ricordati devi stare sempre alla fine della buca molto bene allora ricordatevi sempre di stare attenti a far suonare le pause ossia devono fermare la nota dove c'è il segnettino di pausa questo è importante far abituare da subito i ragazzi a suonare anche le pause poi attenzione sempre alla posizione perciò pollice dietro chitarra dritta con la paletta inclinata la mano un pochettino più su ed ora proviamo a farla con la musica con l'accompagnamento bravissima con l'accompagnamento con l'accompagnamento con l'accompagnamento bravissima Giulia ti sei meritata un altro 10 e noi lo scriviamo qui sotto perché anche questo è molto importante bene abbiamo terminato la nostra lezione se volete continuare a seguirci iscrivetevi al mio canale youtube e attivate la campanella ciao 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 Grazie.